Ciao! Come ti chiami? Io! Quanti anni hai? Sei! Ma non ne hai due? Vado a farlo con la mano? Ma non sono due quelli lì? Venti! Venti! Il 23 maggio! Quindi sei gemelli? Facciamo vedere qualche filmato? Nooo! Ah! 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 Ma che bello che sei quando ridi! Ma chi è che vuoi bene più di tutti? Mamma! Le mandi un bacio? Mamma! Chi vuoi assomigliare da grande? Sì! E come faceva tuo papà quando vinceva le gare? E chi è che ti vizia di più? Nooo! Vuoi bene tuo cuginetti? Sì! Guardiamo qualche filmato? Sì! 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 Ehi! Che bei cugini che hai! Mi abbiamo detto che hai anche un cagnolino. Come si chiama? Sì! E come fa esi? Papàààààà! Eh! E il tuo piatto preferito? Sì! Ti piace ballare? Si Allora facciamo vedere lì un ballerino I got a little buzz in my head So from my bed I could feel the sun Bravissimi! Andiamo avanti con gli altri capitoli Guardiamo cosa hai fatto in questi due anni Yeah So from there Andiamo avanti con gate Иse come si stai A presto! 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 A presto!